Allora, posso chiederle una battuta su Ilva? Secondo lei come si esce da questo cul-de-sac? Costruendo le condizioni che tolgano ogni alibi dalla discussione. Quindi votare lo scudo penale? Sì, naturalmente la disponibilità a votarlo già di per sé sfida Arcelor a scoprire fino in fondo le carte. E quindi credo che la posizione che il Presidente del Consiglio ha espresso sia una posizione giusta. Non si può fare un'apertura di credito gratuita a qualcuno che però poi vuole qualcos'altro, che non è quello. Quindi da questo punto di vista mi sembra ragionevole la posizione. È una posizione che rimedia una battuta a vuoto che c'è stata su questo tema. Perché al di là dell'opportunità o meno sullo scudo, su cui ho molte perplessità, la questione fondamentale è che toglierlo, metterlo, utilizzare la normativa e l'ordinamento in modo così altalenante e oggettivamente crea una condizione di confusione. Vorrebbero questo esubero di 5 mila... Ma questo è inaccettabile perché le condizioni che hanno assunto sono condizioni che prevedevano un livello occupazionale che non è quello che loro ritengono oggi di dover assicurare. Quindi in questo senso... Una nazionalizzazione, un intervento dello Stato secondo lei è ipotizzabile? Adesso prima di tutto vanno richiamati... Incominciare a discutere cosa si fa se chi si è assunto degli impegni non li rispetta. È un modo per agevolare chi vuole eludere gli impegni che ha assunto. Questo scudo penale potrebbe essere anche un ancora che voi lanciate anche all'alto pezzo della maggioranza, al Movimento 5 Stelle, per dire votiamolo insieme e andiamo avanti. Perché altrimenti sembra che un po' la maggioranza su questo tema traballi. Io credo che se Mittal dice con chiarezza che lo scudo fiscale è la condizione per far rientrare i 5 mila esuberi dichiarati, anche il Movimento 5 Stelle abbia difficoltà a dire che non si vota lo scudo.